mi chiamo marco sono architetto e sono cliente della filiale colonnella per via della mia professione ho sempre poco tempo per passare alla filiale così ho scoperto la comodità dell'app in bank vedi qui sul mio telefono tutto quello che mi serve per operare bonifici la ricarica per pagata e la ricarica del telefono di mia moglie e di mia figlia quanto parlano ricevo tutta la posta online e non pago più le spese in più quando devo fare un'operazione particolare un investimento ci sono tutti i ragazzi della filiale mia disposizione per la consulenza meglio di così